Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. Qun esci, arrenesci. Come vi sembra arabo? No. È soltanto un proverbio siciliano. Significa chi esce, cioè chi lascia la propria terra, soprattutto se di terra povera si tratta, riesce, riesce a raggiungere tutti i suoi obiettivi. E di sicuro ci sono riusciti i Florio, la mitica famiglia siciliana d'adozione ma calabrese di nascita, la cui storia è mirabilmente raccontata da Stefaniaucci nel suo I Leoni di Sicilia, prima parte di una saga che si arricchirà ben presto con le nuove avventure dei Florio. Il 24 maggio, infatti, è prevista l'uscita ufficiale in libreria del secondo volume, L'Inverno dei Leoni. Ma attenzione, leggetelo soltanto dopo aver letto questo, perché è da qui che tutto ha inizio. Cannella, pepe, cumino, anice, coriandolo, zafferano, sommacco, cassia. No, non servono solo per cucinare le spezie. Sono farmaci, sono cosmetici, sono veleni, sono profumi e memoria di terre lontane che in pochi hanno visto. Per raggiungere il bancone di una rivendita, una stecca di cannella o una radice di zenzero, deve passare per decine di mani, viaggiare a dorso di mulo, di cammello, su lunghe carovane, attraversare l'oceano, raggiungere i porti europei. Ovviamente i costi lievitano a ogni passaggio. Ricco è chi può acquistarle, ricco è chi riesce a venderle. Siamo agli albori del XIX secolo, manca pochissimo, all'anno 1800. I fratelli Paolo e Ignazio Florio capiscono che in Calabria la loro passione per le spezie, per le erbe mediche, ha poco futuro. Si trasferiscono dunque a Palermo con grande dolore della moglie di Paolo Giuseppina, ma Palermo, all'epoca perlomeno, è il centro del Mediterraneo, il crocevia di tutti gli scambi commerciali. In poco tempo i Florio, dopo la morte prematura di Paolo e Ignazio che prende le redini dell'azienda, mettono su un'attività fiorente che si espande, si espande, si espande sempre di più. I loro commerci adesso attraversano il mare e si spingono fino all'Inghilterra. I nobili palermitani, indebitati fino al collo, si rivolgono a loro per ottenere prestiti, ma i Florio per tutti, per tutti loro rimangono i facchini, venuti da fuori, i pidocchi arricchiti, i parvenus. Paolo è cortese, ma non servile. I nobili palermitani sono una strana razza, attaccati ai loro privilegi come le unghie alla carne, indebitati fino alle mutande, ma coperti di velluti e gioielli. Rivendono case e possedimenti che non sono più in grado di mantenere, scambiandoli come carte di un mazzo truccato. Poi arriverà Vincenzo, figlio di Paolo, la seconda generazione, a consolidare l'impero dei Florio e a tentare il salto di qualità per esposare la figlia con un aristocratico. Le minuziose ricerche storiche d'archivio, le interviste ai discendenti dei Florio hanno consentito a Stefania Auci di ripercorrere, di restituirci la vita di una tra le più importanti famiglie italiane del passato recente, per la verità, negli ultimi tempi un po' dimenticate. È una storia appassionante, coinvolgente, avvincente, un vortice di sentimenti contrastanti. C'è l'amore inconfessabile, la passione travolgente, la rabbia, l'invidia, l'odio, la determinazione, la forza di volontà. Il tutto su uno sfondo storico curatissimo che Stefania Auci non manca di mettere, di piazzare all'inizio di ogni sezione del romanzo. Il racconto si poggia su uno stile sobrio, misurato, ma di una tale efficacia che con pochissime parole riesce a esprimere i sentimenti anche quelli più profondi. Una lettura per tutti, anche per gli studenti che potranno trovarvi utilissime informazioni di quelle che non si trovano nei manuali scolastici sulla storia d'Italia della prima metà dell'Ottocento. Grazie per la vostra attenzione, alla prossima, buona lettura e mi raccomando nel frattempo veniteci a trovare sul nostro sito web e sui nostri canali social. Grazie.